Nella giornata mondiale dell'acqua che si celebra oggi, l'Accademia dei Fisiocritici ritorna a occuparsi di questo elemento con una ricca e articolata iniziativa. Un'iniziativa che nasce dalla raccolta di vari input, sia esterni che interni all'Accademia. Il primo viene dalla Società Bibliografica Toscana, qui rappresentata dal suo presidente, l'Avvocato Paolo Tiezzi Maestri. Con la Società Bibliografica Toscana noi abbiamo fatto tante belle iniziative nel passato. Alcuni mesi fa l'Avvocato Tiezzi ci ha comunicato l'interesse ad allestire congiuntamente, ad allestire insieme, una mostra di libri antichi di argomento, diciamo, idrologico. Il secondo input è venuto dalla professoressa Anna Guarducci, del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, che ci ha chiesto di poter presentare in Accademia una sua, direi, imponente opera, un'opera in due volumi, che tratta le terme in Toscana dal Medioeo ad oggi, storia e beni culturali. Gli altri input sono interni. Uno viene dallo scavo, direi, dal riordino del nostro archivio storico, portato avanti con tanta dedizione da due nostri accademici, Doriano Mazzini, che è qui in aula, e Mario De Gregorio, che è qui accanto a me. Bene, che cosa è successo durante lo scavo di questo archivio? È successo che sono emersi degli inediti, in particolare tre memorie inedite che hanno proprio come argomento l'acqua. Sono memorie del primo 800, una mi sembra tratta dell'acqua burra e le altre due trattano di sorgenti sulfure scoperte qui intorno, se non dentro Siena. L'ultimo input, sempre interno, viene dal museo. La constatazione è che noi abbiamo una peculiarissima collezione, una collezione di acque minerali. Infatti, messa dentro delle bottigliette particolari, acque minerali del territorio senese, perché il nostro, il territorio della Toscana, non solo senese, ma quello della Toscana meridionale, costituisce una delle aree più importanti al mondo per la ricchezza di acque termominerali. Certe volte noi non ci rendiamo conto di questi patrimoni, è facile certe volte constatarlo di fuori, una volta in un posto lontanissimo da qui, sulle Ande, nel Tatio, nel bacino del Tatio, a 4.800 metri, che è uno dei più importanti giacimenti termominerali del mondo, c'era un pannello che illustrava i siti, le aree del mondo, dove ci sono queste importanti sorgenti. Yellowstone, il Giappone, il Tatio in Sud America e la zona della Toscana meridionale. Noi quindi abbiamo una collezione nel nostro museo di queste bottigliette di acque minerali, raccolta, credo, in occasione, o subito dopo, il decimo congresso degli scienziati italiani che si tenne a Siena nel lontano 1862. Io a questo punto desidero ringraziare innanzitutto l'avvocato Tiezzi Maestri della Società Bibliografica Toscana, che ha messo a disposizione tanti libri che troverete in mostra, libri della sua biblioteca di Villa Classica di Torrita di Siena, un carissimo ringraziamento a Mario De Gregorio, Anna Guarducci, Antonio Baldi e al sovrintendente della nostra bellissima biblioteca, la dottoressa Marta Luciana Giovannoli. Bene, io direi che ho concluso il mio saluto, passerei la parola all'avvocato Tiezzi Maestri e poi dopo a Mario De Gregorio. Buonasera, io saluto brevissimo, mi associo alle parole del Presidente Manganelli e colgo l'occasione per esprimere i sensi, un duplice senso di soddisfazione per quello che ormai nel giro di due o tre anni abbiamo realizzato insieme. Noi, piccola associazione di volontariato culturale, voi storica accademia senese, plurisecolare, però viribus unitis, tanto per parlare un po' di latino, credo che si sia potuto costruire delle cose che hanno un loro senso, hanno anche una loro collocazione negli specifici settori cui si riferiscono. E poi il senso di gratitudine che appunto abbiamo per essere associati in cifatte iniziative. E colgo l'occasione per anticipare che alla fine del prossimo mese di giugno a Montecatini Terme sarà presentato un volume che riguarda tutte le province della Toscana, quindi l'intera regione toscana, sempre in tema di acque minerali e termali. Saranno oltre 200 edizioni censite fino all'anno 1900, quindi fino alla fine del XIX secolo. E se quello sarà il frutto che si vedrà in quell'occasione da una parte della passione dei collezionisti, dall'altra per le esperienze e la capacità degli studiosi, ciascuno per le sue specifiche materie, ecco, devo ricordare le radici che hanno portato a tutto questo. Un'iniziativa che fu presa ormai 20 anni fa a Chianciano Terme, quindi ovviamente parlando di acque minerali e termali i posti sono sempre questi, però a Chianciano Terme con una piccola pubblicazione, ma tutt'altro che banale e tutt'altro che irrilevante, che si intitolava Scritti sull'acqua. Anche in quel caso si parlava di libri antichi del territorio senese, del territorio di quella che è stata la Repubblica di Siena, e quindi a distanza di 20 anni raddoppio il ringraziamento a Mario De Gregorio perché curò quella pubblicazione e quella mostra allora e insieme ad altri altrettanto ha fatto in questa occasione. Grazie a tutti per essere venuti e spero anche il prossimo anno si possa fare qualcosa insieme. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Il Presidente dell'Accademia ha ricordato che oggi, come molti sapranno, è la giornata mondiale dell'acqua e che quindi ci è sembrato che non ci fosse occasione migliore per un'iniziativa di questo genere. è la giornata mondiale dell'acqua che è stata indetta dalle Nazioni Unite nell'ormai lontano 1992. Il fine era quello di sensibilizzare sia i governi che l'opinione pubblica sui grandi problemi che affliggono questo elemento che non è importante, è vitale per la sopravvivenza dell'umanità. Sono passati 30 anni, anzi anche un po' di più, e la situazione non è che sia peggiorata, è diventata tragica perché dagli ultimi dati che ci vengono forniti in questi tempi recenti, per esempio dall'Oxfam, che è questo coordinatore di tutta una serie di organizzazioni non governative che agiscono su tutti e cinque i continenti, viene fuori un quadro terribile dove una persona su tre non ha accesso all'acqua pulita e sono 2 miliardi e 200 milioni di persone. Una persona su due non ha accesso a servizi igienico-sanitari sicuri, circa 4 miliardi e 200 milioni di persone, tenendo conto che l'80% delle malattie nel mondo sono legate al consumo di acqua sporca e contaminata. L'acqua è sottoposta, certo, al cambiamento climatico, è sottoposta all'inquinamento, è sottoposta allo spreco. Nei paesi capitalistici, quelli più avanzati, ci sono molte forme di spreco dell'acqua, anche in Italia. vediamo che in notizia di questi giorni viene nominato un commissario per affrontare i problemi della siccità, quanto invece dovrebbe affrontare prima di tutto il problema dell'enorme dispersione che c'è nelle condotte delle nostre città dell'acqua potabile, che, secondo una statistica, riuscirebbe a soddisfare i bisogni in un anno di 43 milioni di persone. Cioè siamo di fronte a dei dati veramente incredibili. Quindi, giornata mondiale dell'acqua, per prendere coscienza di un problema, la siccità ci sta stringendo da tutte le parti e l'acqua è un bene vitale che costa. È notizia di stamane sui giornali che Siena è una delle cinque città in Italia ai primi posti per costo dell'acqua potabile. Quello che affrontiamo stasera all'interno di questo discorso sull'acqua in generale e che quindi andrebbe guardato anche nel contesto, per esempio, dell'acqua di mare, dei mari, degli oceani, e sappiamo quali problemi si debbano affrontare per questo, abbiamo scelto una linea, non dico di basso profilo, ma un taglio diverso. È quello di parlare delle acque minerali e dei siti termali nel territorio senese. Quindi, diciamo, una prospettiva un po' più ristretta che però dà già il senso, secondo me, delle problematiche che sono legate a questo tema dell'acqua. Viviamo in una regione come la Toscana dove c'è un sistema particolarmente ricco e ben distribuito sul territorio di acque minerali. E questo perché? Perché c'è una geomorfologia particolare, non dimentichiamo specificamente per il territorio senese che siamo dominati dall'Amiata, che è un vulcano spento e che quindi ha una sua comunque attività. E questo dà alle acque che sgorgano a queste sorgenti caratteristiche fisico-chimiche sicuramente diverse che hanno specifiche qualità terapeutiche. Questo distingue l'acqua minerale dalle acque potabili. Ora, dobbiamo tenere conto e quello che vedremo nella mostra che poi andremo a visitare e che leggeremo nel catalogo quando fortunatamente lo avremo, questo tipo di sistema termale toscano è stato molto studiato. È stato da sempre, diciamo, da molti secoli, oggetto di ricognizioni, descrizioni, narrazioni. Pensiamo per esempio all'Odeporica, alla letteratura di viaggio. Qui mi viene in mente per la Toscana a Giovanni Targioni Tozzetti i viaggi fatti in diverse parti della Toscana dove le sorgenti termali sono esaminate con cura, segnalate eccetera. Ma poi c'è anche una produzione per esempio di carattere burocratico che guarda alle sorgenti termali, alle acque termali, agli siti che sono stati costruiti su queste acque. Penso qui alla famosa visita a Ghirardini dell'ultimo venticinquennio del Seicento oppure penso alla visita a Granducale di Stefano Bertolini 1761 o anche un altro aspetto è la ricerca archeologica che ha sempre interessato. Ora noi abbiamo l'esempio delle scoperte fatte di recente a San Casciano Bagni però è un tipo di attività che è proseguita per molti secoli. c'è un'opera di grande livello come quella di Francesco Bruni sopra i bagni degli antichi si chiama del 1811. Per Siena abbiamo ancora altre prospettive che sono quelle dell'erudizione per esempio faccio riferimento al gigli del diario Sanese oppure al pecci dello stato di Siena antico e moderno dove tutti questi siti termali queste sorgenti sono non solo ricordate ma anche approfondite dal punto di vista storico come uso eccetera in una tradizione che in Toscana ci fa risalire agli etruschi sicuramente e anche sicuramente ai romani c'è poi una tradizione di viaggi naturalistici pensiamo qui a quelli che sono stati i volumi di Giorgio Santi il primo su sulle Terme Pisane e poi sul famoso viaggio al Montaviata con i due volumi susseguenti sui viaggi per le due province senisi il tipo di approfondimento che è stato fatto su questa realtà delle acque termali toscane ha riguardato anche l'aspetto bibliografico la trattatistica che poi è l'oggetto vero della mostra che andremo a vedere più tardi e per il senese qui va sicuramente ricordato l'ha già fatto Paolo Tiezzi questo volume scritti sull'acqua che era il catalogo di una mostra tenuta a Chianciano dove fortunatamente insieme a tanti collezionisti volenterosi che avevano prestato le loro opera c'era la presenza e il contributo della Biblioteca Comunale di Siena che è veramente un deposito ricchissimo di questa trattatistica va aperta una parentesi Siena è una città legata particolarmente al Medioevo e qui all'interno di questo contesto rimane risolto un problema che è quello della 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 relazione che Simone di Jacopo Tondi nel 1334 fece ai quattro conservatori in cui enumerava e esaminava tutte le sorgenti termali e minerali che c'erano nello stato della Repubblica Serese Ora questa relazione che è stata pubblicata poi a fine Cinquecento da Giugurta Tommasi il famoso storiografo senese è stata contestata all'autenticità c'è stato uno studioso francese devo dire molto attento per certe cose che però ha negato l'autenticità di questa cosa di questa relazione e che sarebbe una fonte veramente ricca 1334 è l'anno ha negato l'autenticità di questa fonte definendola come un'invenzione del Tommasi stesso francamente sono sempre rimasto molto perplesso di fronte a questa affermazione soprattutto perché non capisco perché il Tommasi che è uno storico affidabile e fa parte di quella storiografia cinquecentesca senese che ci ha dato molti contributi pensiamo al Malavolti per esempio alla storia di Siena e Malavolti come mai il Tommasi abbia dovuto inventare una storia di questo genere secondo me la relazione il documento e il manoscritto chiamiamolo così non è stato ancora trovato ma secondo me da qualche parte esiste ora noi ci proiettiamo verso oggi e verso oggi bisogna dire è già stato accennato della presenza finalmente di questi due volumi di Anna Guarducci che abbiamo qui stasera geografa storica appunto presso l'Università degli Studi di Siena che ha dato anche il patrocinio a questa serata e un lavoro dettagliato un lavoro storico molto informato soprattutto anche dal punto di vista bibliografico l'autrice ha guardato e esaminato tutta la bibliografia che riguardava le singole acque minerali le singole termi i singoli siti termali e ci ha dato un quadro veramente completo siamo di fronte alla descrizione di un'ottantina di siti termali all'interno della Toscana e alcuni molto conosciuti altri meno altri scomparsi altri caduti in disuso però Anna Guarducci ci dà veramente un quadro molto significativo di questa realtà quindi come stavo detto stasera abbiamo chiamato Anna Guarducci insieme al dottor Antonio Maria Baldi che è un geologo per un non dibattito nemmeno un confronto diciamo così un dialogo su questi due volumi che ci arricchiscono sicuramente di informazioni molto significative e curiose spesso sui siti termali della Toscana allora invito il dottor Baldi e la professoressa Guarducci a accomodarsi qui quello che andiamo a parlare è sostanzialmente un libro a carattere storico quindi non ha presupposti di chimismo di salute di cose delle acque termali ma invece è una grossissima documentazione diciamo 887 pagine lo dico perché non è un numero piccolo quindi scritte bellissime eccetera eccetera che mettono insieme il quadro del termalismo in Toscana ma prima però di addentrarsi su questo tema bisogna fare un po' una premessa ecco una premessa che serve un po' a capire il contesto generale su cui ci si muove e si muove diciamo tutto il quadro da tenere presente che la farmopea fino alla metà dell'ottocento praticamente non esisteva e quindi i medici generici e così via si arrabattavano col sistema degli umori riferimenti all'antichità e poi non facevano altro che facevano salassi e davano purganti sostanzialmente era questa diciamo la situazione medica in generale e quindi non stupisce il fatto che molti medici si siano dedicati o si siano rivolti alle acque termali studiandole studiando e mettendo risalto i loro benefici insistendo affinché le persone andassero a praticare le cure eccetera e quindi questo spiega anche perché c'è tutta questa ricca documentazione storica negli archivi che praticamente era l'unico tema che potevano sviluppare in quel momento i medici per far capire diciamo qual era la situazione generale e questo diciamo è un uso è un discorso importante e cercavano di incoraggiavano quest'uso e quindi ovviamente le persone andavano alle terme anche incoraggiati fin dal medioevo e così via incoraggiati dai medici chiaramente era una cosa che costava quindi non era l'andare più o meno lontano era legato al portafoglio di chi si muoveva eccetera eccetera e quindi assumevano un'importanza notevole anche le piccole terme le piccole manifestazioni che potevano essere vicino casa o diciamo ad un raggio facilmente raggiungibile da tutte le persone e questo diciamo è un passaggio importante che bisogna ricordarsi per capire e la professoressa Guarducci le ha documentate tutte anche quelle piccole quelle sotto casa diciamo non solo quelle grandi che sono su tutti i libri e che tutti ma ci sono anche quelle piccole e così via e questo diciamo è un grosso elemento perché chiaramente produce un elenco che diciamo penso sia definitivo diciamo delle disponibilità e così via ora noi ci articoleremo diciamo un po' l'incontro sostanzialmente in quattro domande partendo un po' dall'antico e su questo diciamo ci partiremo e vedremo un po' di cose intanto scorrono sul mondo le immagini di quelli che sono gli edifici termali di quelli che erano di quelli che sono andati in disuso chiaramente poi dopo è successo che con l'avvento della nuova medicina della nuova farmacopea le terme hanno perso questo aspetto di interesse e così via ora si va a farmacia e si compra il farmaco e si risolve il problema le cose anche più semplici l'aerosol ci sono le macchinette e non c'è più bisogno di andare a termine per farle come una volta e così via e questo ha cambiato chiaramente lo schema e la richiesta e il mercato e così via ma su questo diciamo non è oggetto di nostra in questo momento noi vedremo un po' lo schema come cambia nel tempo e così via si parte dal medioevo e si parte in particolare da Petriolo che era fra le più rinomate e per le più richieste come tipo di terme in quel momento nonostante che non fosse sulle vie di comunicazione importanti ma era abbastanza defilata rispetto alla geografia dei trasporti del tempo e così via e quindi la domanda è perché queste terme andavano ci furono dei forti investimenti da parte della Repubblica nei confronti di queste terme ma c'era anche diciamo la scelchia muraria che in qualche modo garantiva probabilmente chi era all'interno da incontri non buoni diciamo e quindi dava diciamo una certa sicurezza e quindi dice e questo diciamo è un passaggio abbastanza importante queste mura queste medievali e così via sono state oggi quasi tutte restaurate il restauro è quasi finito ad opera di peraltro di privati e ci permetterà di rivedere effettivamente tutta la scelchia muraria compresa anche la prodigio in fondo al fiume diciamo e così via poi cosa avveniva dei temi probabilmente c'era anche il divertimento non c'era solo l'uso termale c'era anche il divertimento c'era anche il gioco c'erano le signorine c'era di tutto c'era e quindi questo incentivava la presenza e anche il riparo da occhi indiscreti ecco la domanda è perché diciamo nel medioevo Petriolo ha questa importanza non solo perché ci andava il Papa ma penso è diffuso i personaggi che ci andavano in quel periodo erano immensi insomma da un punto di vista bene buonasera a tutti ringrazio dell'invito e innanzitutto una piccolissima premessa allora questo è i due tomi sono diciamo sono i due tomi oggi parliamo soprattutto di terme senesi però come ha prima preannunciato come ha prima chi ha preceduto il dottor Baldi si tratta di tutte le terme della Toscana o meglio di quelle che io sono riuscita a censire perché la scelta di queste 80 poi già dalla mostra potete vedere che anche già nel senese sono molte di più sono di quelle che io ho censito io mi sono occupata di terme e non di sorgenti minerali mi sono occupata di terme per cui queste 80 che io ho selezionato in tutta la Toscana sono sorgenti minerali che tra il medioevo e oggi hanno avuto un utilizzo terapeutico o per la balneazione quindi come vediamo abbiamo visto prima bagno vignoni per esempio oppure per le cure idropiniche cioè per la bevanda o anche per i fanghi o comunque quindi una qualche organizzazione sia piccola che grande come Chianciano che ha dato luogo a una vera e propria città termale quindi scusate questo lo devo dire c'è l'editore anche è arrivato un po' in ritardo ma fuori ha portato anche un po' di copie di libri che mi ha detto vende a un prezzo anche scontato dunque veniamo alla domanda perché l'importanza di Petriolo allora innanzitutto non è quella di su cui si trova Petriolo non è proprio una strada secondaria in realtà è la strada diciamo che conduce verso il sud era l'unica strada che conduceva a parte la Cassia ovviamente verso la Francigena insomma verso il sud della Toscana quindi era una strada in qualche modo percorsa Petriolo insieme al doccio insieme alle acque del doccio di Macereto oggi purtroppo non si può dire scomparse perché sono sconosciute oggi perché dall'alluvione del 66 le acque del doccio furono che l'alluvione del 66 si parla sempre di Firenze ma non fu solo l'Arno che esondò esondarono tutti i fiumi della Toscana quindi compreso la Merze compreso il Farm le sorgenti all'epoca furono disperse le sorgenti e le termine le piccole termine del doccio di Macereto che oggi si trovano in mezzo alle risaie è una costruzione un po' cadente proprio in mezzo alle risaie e quindi sulla Siena Grosseto andando verso Grosseto sulla destra insieme a Petriolo erano tra le acque più rinomate della Toscana quindi sia per le loro è questo il doccio eccolo sia per le qualità terapeutiche sia per l'abbondanza sia per il calore anche di queste acque sicuramente l'interesse di Siena quindi della Repubblica senese è importante ovviamente perché prima si parlava della relazione di Jacopo Tondi io sono dell'opinione che quel documento possa essere attendibile secondo me anche perché nelle descrizioni di Jacopo Tondi che descrive Petriolo che scrive il doccio le descrive tutte perché le passa proprio in rassegna perché a quello che si riporta è un incarico d'AFA della Repubblica di Siena e c'è riscontro anche nella documentazione c'è riscontro negli statuti comunali per cui ecco perché dovrebbe essere un'invenzione cinquecentesca questo mi lascia devo dire la verità un po' perplessa quindi ecco Petriolo sicuramente la bontà delle acque questo dimostra il fatto che Petriolo nonostante le fasi di sviluppo e di decadenza più decadenza che sviluppo nel corso dei secoli perlomeno dalla diciamo dalla conquista di Siena da parte di Firenze in poi un po' tutte le termesinesi decadono però non è mai non ha mai avuto un abbandono e questo è dato dal fatto quindi dall'abbondanza di queste acque dalla loro bontà dalla loro importanza e quindi poi c'è un altro aspetto Petriolo si trova come il doccio anche su una delle vie della transumanza diciamo sulla via principale della transumanza che collegava quindi l'Appennino che collegava il nord della Toscana con la Maremma e quindi c'è una consuetudine c'è un uso che non si perde mai perché oltre alle persone si curavano anche gli animali non so se ho risposto no benissimo è stata più che d'Oriente diciamo in questo senso e così via ora facciamo un salto del rinascimento e vediamo che qui il modello termale cambia innanzitutto ci sono anche altri centri importanti Lucca Abano Pozzuoli Aquiterme però anche all'estero ci sono diciamo si affermano stabilimenti importanti Prombevi Sci Baden-Baden Evian eccetera eccetera e cosa succede? Succede che sostanzialmente cambia a parer mio poi questo chiedo un fermo appunto alla professoressa e così via il modello di termalismo nel senso che da noi importanti in questo periodo sono i bagni di Lucca dove praticamente intorno alle terme nascono una serie di ville signorili e così via che facevano da contorno alle terme in cui questi proprietari e così via invitavano persone importanti i quali andavano di conseguenza alle terme mi viene nella mia villa e così potrai fare il soggiorno termale un po' come oggi accade per chi c'è la villa all'argentario o al cicceo e cose di questo genere insomma sostanzialmente il modello è questo qui e quindi dà una forte rinomanza al bagno di Lucca bagno di Lucca in questo momento assume diciamo un aspetto importante di contro invece appunto nel senese con la fine della Repubblica o che sta finendo la Repubblica forse anche la guerra e così via non assistiamo anzi abbiamo il declino del sistema termale del sistema termale senese e non abbiamo anche le famiglie nobili se ne interesseranno ma molto più tardi e diciamo nel settecento sostanzialmente ma questa fase qui i delci o le galleraie i chici o bagno vignoni eccetera tant'è vero che Montagnè che qui va citato come così via nel suo giro nell'Italia fra il 580 e il 581 che visita tutte le termine e così via definisce le termine di bagno vignoni come una pitoccheria quattro case e una dodicina di case poco comodi e disdicevoli poste intorno alla vasca e basta insomma quindi bagno vignoni è proprio una delle pessime manifestazioni termine poi si vedrà dopo il mondo è cambiato e di conseguenza bagno vignoni anche ecco questo modello del 500 quanto dura com'è che si organizza e perché qui da noi non funziona ecco allora innanzitutto distinguiamo tra rinascimento età moderna anche se si compenetrano diciamo però ecco Petriolo nel rinascimento se si parla di 400 è ancora in auge è ancora perché l'ultima cerchia muraria è dell'inizio del primo del 400 è dei primi anzi ci tengo a dire appunto Petriolo si ora viene diciamo sta fuoristrutturato sia la locanda che le mura è quasi finito il restauro ad opera quindi per finanziamento del privato che è Unipol sai che è Unipol però con la collaborazione dell'Università di Firenze e anche dell'Università di Siena ci ho lavorato anch'io ma soprattutto i nostri archeologi che hanno fatto diciamo tutto il lavoro di scavo e di riconoscimento l'idea appunto è quella di valorizzare quel sito che come tutti che molti insomma sanno è un sito che negli ultimi anni negli ultimi decenni ha avuto un po' di decadenza ha avuto perché diciamo un po' abbandonato in qualche modo per cui l'idea è quella di riportare la gente riportarci le famiglie valorizzare diciamo un sito un sito minore tornando ecco alla crisi delle termine del Senese la crisi è vero è una crisi che parte nel Cinquecento soprattutto non solo dopo la conquista Visena anche prima il Senese non è un luogo sicuro è un luogo di scorribando è un luogo di guerre quindi è un luogo di diciamo è un luogo caldo però la frequenta ecco in questo periodo tra Quattro e Cinquecento ad esempio c'è un altro che non siamo nel Senese oltre a Bagni di Lucca ci sono le terme volterrane le terme volterrane dove oggi non è rimasto niente nel senso che è tutto sono tutte abbandonate sono tutte neglette in qualche modo però le terme volterrane nell'area diciamo che poi è l'area dei soffioni più o meno c'era un concentrato di sorgenti minerali incredibili e le terme volterrane erano le terme propriamente dei medici proprio perché Volterra era ovviamente sotto legge di Firenze ed erano frequentatissime dai medici ma anche da papi da imperatori da personaggi diciamo altolocati sì la crisi delle terme senesi comincia nell'età moderna che però è un po' una crisi di un territorio ecco non è solo la crisi diciamo delle terme è la crisi di un territorio e è la crisi anche di un settore perché è una cosa che non bisogna dimenticare prima è stato detto le terme sono luoghi di cura ma sono anche luoghi di svago sono passate all'inizio due motti in qualche modo no quello di Montegne chi vuol che la sua donna impregni vada alle terme e non ci vegni la dice tutta la dice insomma in qualche modo come anche quella del del medico e erano luoghi di svago erano luoghi di meretricio erano luoghi dove si faceva festa dove ci e dal diciamo dal 500 soprattutto dal concilio di Trento c'è da segnalare una versione della chiesa proprio una versione della chiesa attraverso i trattati attraverso gli iscritti attraverso le prediche verso questi luoghi che erano considerati luoghi di luoghi di perdizione e pertanto ecco per avere una una ripresa per avere una ripresa non solo nel senese ma un po' diciamo in generale occorrerà attendere perlomeno il la metà del 700 scusate passando facendo un salto di un secolo nell'800 noi abbiamo si incomincia a intravedere in Toscana ma anche dalle nostre parti un modello diverso Montecatini e Rapolano sostanzialmente che Rapolano assume un ruolo importante con un numero di presenze di utenti elevato e così via in virtù di cosa ma probabilmente anche dell'affatto della ferrovia che permetteva in qualche modo l'accesso alle terme dell'arlaste borghese dell'arlaste diciamo che non aveva quella grossa disponibilità che avevano i nobili in passato e così via e quindi si incominciano a riutilizzare certe terme anche nella vicinanza delle case quindi siamo vicini a casa quindi di conseguenza riesco ad andare alle terme anche quelle minori e così via e in questo modo mi curo e mi rendo sano sostanzialmente prima di questo sistema forse dell'800 domando se corrisponde questa mia sensazione dunque si è parlato quindi di crisi e di e di ripresa sicuramente come ho detto prima bisogna ci sono degli interventi anche in età moderna per esempio a un certo punto si è visto passare ecco questi sono molto divertenti vedrete giù in mostra vengono sono nel 1688 del Bottarelli un medico che illustra questo trattato termale ecco San Casciano a proposito di San Casciano dei Bagni San Casciano dei Bagni è un po' un'eccezione perché proprio all'inizio del 1600 i medici decidono di finanziare quindi la costruzione di un grande stabilimento che poi nella sua sostanza è quello che c'è ancora oggi il bagno del portico grande però diciamo per tutto il 1600 anche l'inizio del 1700 poi non si hanno diciamo realizzazioni importanti bisogna aspettare come dicevi i Lorena e i Lorena arrivano dall'Austria arrivano e nell'Europa del centro nord le terme le città termali sono già una realtà molto importante per cui i Lorena esportano diciamo questo questo modello anche in Toscana e danno il via delle realizzazioni che però non per il Senese abbiamo Chianciano negli anni alla metà del 1700 però l'avvio si dà con Bagni di Pisa con le terme di San Giuliano quindi oggi Bagni di Pisa si dà con Bagni di Pisa dove con finanziamento tutto statale quindi si realizzano le terme poi sarà la volta di Chianciano sarà la volta di Monte Catini che diventerà insieme a Chianciano proprio l'altra città d'acqua e non a caso ha avuto due anni fa il riconoscimento UNESCO di quindi patrimonio dell'umanità Monte Catini e poi avremo nel sud della Toscana un po' negletta le terme di Roselle anche quella all'inizio dell'Ottocento nasceranno proprio si valorizzerà una sorgente già esistente dall'età antica per volere quindi per finanziamento proprio granducale queste quattro diciamo realizzazioni statali in qualche modo saranno particolarmente importanti particolarmente importanti perché ormai tra 700 e 800 abbiamo questo avvento proprio della scienza e la mostra che poi vedremo ce lo dimostra quindi è proprio tra 700 e 800 che si moltiplicano i trattati anche se non è che manchino anche prima però tra 700 e 800 ovviamente la scienza assume proprio un'altra portata un'altra dimensione pertanto tutti gli zampilli vengono in qualche modo analizzati in funzione di una possibile valorizzazione e gli interventi statali daranno proprio il via agli interventi dei privati agli interventi dei privati che valorizzeranno gli zampilli le sorgenti che si ritrovano nei loro terreni per dar luogo a stabilimenti termali nel Senese questo avviene per esempio già nel nel Settecento avviene con la famiglia Borghesi che sistema e valorizza e costruisce le terme a Montalceto con Armaiolo i bagni freddi siamo nel 1750 ora passano siamo a Rapolano siamo con Armaiolo con la famiglia Chigi che costruisce le terme a Bagno Vignoni oppure alle Gallerai ai Bulgarini e via via quindi ci saranno tutta una serie di diciamo interventi dei privati e poi ovviamente la viabilità farà farà il bello e il cattivo tempo non solo delle terme ma della fortuna dei territori il Senese insieme anche all'area del Volterrano saranno esclusi dalle grandi direttrici di traffico che si realizzano in Toscana soprattutto nella seconda metà del Settecento e poi nell'Ottocento io che vivo a Sesto Fiorentino e vengo a lavorare a Siena ne so qualcosa perché se vengo in macchina vengo perché con il treno con i mezzi pubblici diventa un calvario quindi ecco la viabilità ovviamente ha una grande importanza sia le strade carreggiabili sia poi la ferrovia e farà la fortuna di alcuni territori Chianciano sicuramente anche Rapolano Montalceto per esempio che a un certo punto assume pure la denominazione Montalceto Terme se voi fate la ferrovia quella a vapore che passa anche da Montalceto si vede un po' sbiadito su una casa scritto proprio Montalceto Terme oggi sono Montalceto Terme ma dove sono le termi a Montalceto e le termi di Montalceto sono diventate un'abitazione privata e quindi diciamo si sono chiuse così come anche altri edifici termali dopo nella fase finale di Dea Denza sono stati ripristinati a Rapolano ce ne sono diversi ripristinati ad abitazioni perché erano volumi questo per esempio è uno che è avvenuto a casa ma insomma è diventato adesso è diventata un'abitazione eccetera ma appunto mi concentravo un attimo ora sull'ultimo pezzo sul Novecento dove ci sono appunto questi investimenti consistenti dello Stato attraverso una serie di società collegate dello Stato non è che proprio lo Stato direttamente mi sembra che investe sia su Montenatini e anche un po' sugli altri minori eccetera facendo anche delle opere importanti basta pensare il salone delle feste a Chianciano fatto da Nervi insomma ci sono delle opere di pregio e così via quindi non era solo un dare un contributo e poi le cose si facevano si facevano delle opere importanti e su questo dopo nascevano gli alberghi al contorno eccetera ecco perché a un certo punto lo Stato interviene in maniera così massiccia e poi dopo scompare dopo si ritira completamente anche dall'ENI da tutte queste scompare totalmente diciamo dal panorama della contribuzione dopo c'è il passaggio di competenza alle regioni però diciamo questo già prima era avvenuto questa scomparsa dello Stato e sulle vie di comunicazione era importante l'uscita dell'autostrada di Chianciano con tutte quelle piante con tutte quelle cose fu estremamente fu voluta apposta perché doveva essere la più bel casella sostradale d'Italia insomma quindi c'erano delle volontà precise di attrarre le persone e così via dunque il novecento allora il novecento ovviamente bisogna considerare per il novecento la funzione del termalismo assistito termalismo assistito che è una realtà che poi diciamo dagli anni settanta in poi scompare sicuramente il termalismo assistito fa la fortuna di tanti stabilimenti termali perché quindi lo Stato in qualche modo sono gli enti assistenziali dei lavoratori che sovvenzionano le cure termali e quindi lo Stato interviene interviene anche nella manutenzione interviene anche nella sponsorizzazione di tante di tante terme allora già con la guerra facciamo un piccolo passo indietro già con la seconda guerra mondiale c'è una notevole crisi molti stabilimenti vengono distrutti tanti non vengono riaperti gli stabilimenti più piccoli quelli più difficilmente raggiungibili quelli che ormai erano frequentati soltanto dalle popolazioni locali non hanno più un valore economico e quindi con alla fine dopo la seconda guerra mondiale molti non riaprono nemmeno i battenti quali sono quelli che rimangono aperti i grandi colossi soprattutto quindi Chianciano Montecatini ma anche Rapolano ma anche Casciana quindi ce ne sono diversi e poi ci sono c'è tutta la pratica delle acque da bere delle acque imbottigliate delle acque commercializzate poi ovviamente da una parte gli sviluppi della medicina da una parte la farmacopea sicuramente questo fa questo è importante ovviamente faccio un esempio prima lei parlava delle inalazioni questo ovviamente si può pensare a Sant'Albino quindi a Montepulciano oppure alle grotte le due la grotta giusta e la grotta parlante a Mussummano Terme che hanno avuto uno sviluppo ottocentesco e primo novecentesco incredibile però ci si curava la gotta con quei vapori e la gotta basta prendere una pasticca oggi quindi non è più così così importante andare alle terme quindi c'è una crisi diciamo diffusa generalizzata quando finisce l'epoca del termalismo assistito e quando diciamo le terme non sono più diciamo non hanno più la funzione principale di essere luoghi di cura e poi negli ultimi decenni ovviamente gli stabilimenti che sono rimasti aperti in Toscana sono quelli che si sono saputi diciamo riciclare reinventare reinventare nel nome del benessere nel nome del wellness nel nome quindi di nuove pratiche un nuovo modello quindi che è quello della cura olistica quindi nuovi modelli e oggi quelli che sono particolarmente in crisi sono i colossi perché è facile mandare avanti anche se con difficoltà Chianciano Rapolano dove ci sono solo due stabilimenti San Casciano dei Bagni San Filippo è facile ma ecco mantenere in vita mantenere attivi di colossi come Chianciano o come Montecatini dove ci sono decine di migliaia di posti letto con alberghi con case con ristoranti con tutto quello ovviamente che poteva servire per un'affluenza di decine di migliaia di persone questo oggi e il pubblico oggi manca perché anche la regione io lo dico lo dico sempre la regione da qualche decennio è assente sta cercando ovviamente di vendere la propria partecipazione le proprie quote ed è assente anche nella attività di valorizzazione perché questo lavoro che io ho fatto vuole essere infatti nel sottotitolo cioè storie e beni culturali vuole essere anche una ricognizione che vede diciamo non solo le sorgenti termali per una loro valorizzazione come acque termali in funzione delle termine ma anche come patrimonio culturale perché oggi in Europa si parla di heritage termale cioè il patrimonio termale che può essere inserito in percorsi oggi si parla del turismo lento del turismo diffuso di decongestionare le città d'arte i luoghi di mare le coste e di spalmare scusate questo brutto termine il turismo nelle regioni nei territori minori per uno sviluppo locale ecco tante di queste strutture che sono un patrimonio sia ambientale sia termale ma anche architettonico potrebbero ecco essere messi a valore inseriti in percorsi turistici in cammini dell'acqua visto che oggi è l'acqua il soggetto principale ora sostanzialmente il modello è cambiato le richieste sono cambiate e quindi le strutture termali si sono in parte adeguate e in parte no rimane anche diciamo un sistema di esubero di offerta tipo chianciano dove diciamo è inadeguata rispetto a quelli che sono gli standard attuali quindi con tutta una serie di riti che comunque la noi non affronteremo però a fronte di questo ci sono delle situazioni di ripresa e di improvviso successo e su questo qui basta pensare al discorso di Bagnavignoni come è nato questo qui alla fine degli anni settanta primi degli anni ottanta quando Svaldo Bevilacqua e Rosario Montesani ebbero l'idea di collocare una telecamera vicino alle terme e di fargli registrare il momento del passaggio della notte a giorno e con quelle atmosfere con quella nebbiolina con quei vapori che salivano dal terreno e così via e questo filmato fece il giro del mondo ebbe un successo strevitoso e da lì praticamente dopo è nata la fortuna di cosa furono molti programmi televisivi sia in Italia che fuori che al blestro che ebbero questo passaggio e di lì è nata diciamo la fortuna di questo che sia peraltro recentemente la concessione termale che era perpetua in mano ai chigi ora è passata in mano al comune per vent'anni non è più perpetua quindi sono state interrotte certi passaggi che forse impedivano anche lo sviluppo certe forme di sviluppo eccetera e di fronte a questo appunto assistiamo come una situazione di purtroppo e di mancanza da parte della regione come nella promozione del sistema termale ma anche nell'assistenza e così via ci si limita a un controllo della parte sanitaria e poco più peraltro ora le competenze sono state trasferite dopo la regione sono state trasferite ai comuni i quali non hanno nessuna capacità di controllo e quindi è ancora più rilassato diciamo il settore e così via però questa diciamo è un po' la realtà la realtà e cosa sopravvivono quelle più moderni che hanno saputo ricillarsi hanno saputo reinventarsi che propongono un'offerta nuova e differente fino a quando fino a che questo modello regge questo non è dato a sapersi ma stato il covid ha messo in crisi ora si sono tutti più o meno ripresi la gente rie di nuovo alle termine rie piena diciamo quindi ci rie presenza però insomma è un sistema che traballa in certi momenti prego io si appunto dicevo ora parlava di bagno vignoni e ovviamente bagno vignoni sono tre alberghi e quattro o cinque ristoranti ecco quando si parla vi decine di miglia e invece appunto di posti letto e di centinaia di ristoranti è più difficile da mandare avanti sì sicuramente le realtà piccole le realtà piccole in realtà come dicevo prima che si sanno faticosamente anche reinventare per esempio ci sono anche delle nuove realizzazioni non nel senese nella provincia di Grosseto nell'area del Tufo per esempio Sorano le terme di Santa Maria dell'Aquila sono state recentemente recuperate c'è stato costruito un villaggio anche diciamo una realtà molto piacevole un'altra sono a Pitigliano anche a Pitigliano uno stabilimento ottocentesco è stato da qualche anno le terme di Valle Orientina è stato da qualche anno recuperato ma anche lì ecco si tratta in una realtà piccola dove se ben valorizzata oggi con i sistemi della globalizzazione i siti internet i social se ben valorizzata quando ha messo dentro 50 persone diciamo ha già fatto ha già fatto il suo ha già fatto e così ce ne sono tante come ci sono anche realtà apparse e scomparse proprio qui nel senese ultimamente il Buddha Spa e hanno una concessione mineraria dentro la tenuta della Bagnaia è stato aperto per io dico uno un anno forse due non credo di più e poi chiuso però ovviamente lì insieme credo a tutta la a tutta la la tenuta e poi ci sono ecco delle tristi per esempio le galleraie anche le galleraie l'acqua non mancava però lì c'è stata questa operazione le galleraie erano partecipate dai comuni come Petriolo anche quindi fu fatto qualche anno fa il recupero di Petriolo e furono vendute le galleraie sono state vendute privatizzate ma sono chiuse ormai da da qualche da qualche decennio ci sono purtroppo tutta una serie di realtà di termi o falliti o che hanno chiuso e così via una di queste appunto è il termine delle galleraie prima c'è stato diciamo non il fallimento giudiziario ma diciamo l'insuccesso di quella che era che è stata la gestione pubblica che a un certo punto ha dovuto vendere e così via ad un privato che poi dopo è fallito e che ora praticamente è tutto fermo sostanzialmente sono tornate in disponibilità del patrimonio regionale però nessuno si fa avanti né chiede né fa niente il comune non ha nessuna intenzione di rimbarcarsi di nuovo in queste realtà ce ne sono anche altri qui da noi il bagno del doccio che si diceva prima e anche lì c'è stato un tentativo recente di una concessione che poi anche questa è fallita peraltro e quindi diciamo si è rifermata anche questa quindi ci sono diciamo realtà che poi dopo non ce la fanno o con la speranza di un turismo che poi dopo non avviene e anche certe realtà dove sostanzialmente è stata investita e così via non hanno avuto proprio il successo di rilancio qui c'è San Casciaro Bagni ma non ha avuto nonostante tutto quel successo che ci si aspettava considerata l'importanza degli imprenditori che si sono affacciati su questa cosa poi ci sono realtà appunto tipo l'eterio l'albergo nuovo di Abagni San Filì che funziona che hanno certe capacità così via di saperle far funzionare comunque diciamo nel complesso il settore è abbastanza in crisi questo va detto insomma senza ora non è con questo si deve chiudere così via ma ci sono molte realtà traballanti che non hanno e così via è un qualche cosa che aiuta il turismo locale però bisogna il turismo locale non si alimenti solo delle terme si alimenti su tutta una serie di elementi di fattori del territorio e così via in cui le terme possono svolgere una piccola frazione locale però non sono il motore principale scusate grazie facciamo un altro passo avanti e io dovrei accennare qualcosa della mostra che poi andremo a vedere ma io volevo cominciare da Francesco Barberi chi è Francesco Barberi molti si chiederanno anzi chi è stato Francesco Barberi Francesco Barberi è stato il più grosso chiamiamolo esperto di biblioteconomia in Italia un grande bibliografo esperto di biblioteche ha diretto la biblioteca angelica la più antica biblioteca pubblica italiana è stato il direttore della scuola per archivisti e bibliotecari famosissima in Europa per preparare voglio dire chi lavora nelle biblioteche e negli archivi è stato per lungo tempo il personaggio principale del mondo delle biblioteche in Italia ha scritto molti libri anche perché era uno storico della tipografia molto preparato diversi libri su la tipografia romana tra fine 400 e inizio 500 insomma però Francesco Barberi è stato uno che dall'alto della sua grande autorevolezza ci ha lasciato però quello che lui definiva un insegnamento per tutti i bibliotecari lo faceva in un libro che si chiamava libro e biblioteca che è stato per noi giovani bibliotecari a suo tempo una sorta di Bibbia e diceva una cosa un po' scioccante diceva che le mostre di libri nella sostanza sono inutili e spiegava perché le mostre di libri sono inutili e sono inutili perché il libro nella teca è inavvicinabile si può vedere un frottespizio una legatura un'incisione che c'è dentro il libro però il libro diventa morto cioè non è un organismo vivo non lo puoi sfogliare non lo puoi sentire il fruscio delle pagine non lo puoi annusare quell'odore vecchio bellissimo che hanno i libri antichi e qui non sto a ripetervi tutta la letteratura che c'è sui cinque sensi del libro per cui lui diceva se io devo esporre una serie di libri anche importanti e però il pubblico non ne può godere appieno le mostre di libri sono praticamente sostanzialmente inutili lui ammetteva soltanto delle mostre che riuscissero a far vedere attraverso la presenza dei libri un percorso di ricerca un obiettivo raggiunto un qualcosa che stimolasse il pubblico che visitava la mostra e comunque in ogni caso secondo lui ci voleva molto apparato illustrativo che aiutasse il pubblico a capire perché un certo libro era lì perché una certa edizione e non un'altra e via dicendo allora io non voglio essere così presuntuoso ma direi che è questo che abbiamo cercato di fare nella mostra che dopo andremo a visitare abbiamo cercato di farlo incrociando materiali diversi certo molti libri editi libri a stampa ma anche manoscritti anche pannelli esplicativi sulla vicenda diciamo bibliografica e sulla storia del terbalismo e ritratti dei personaggi degli autori che hanno dato vita a questa trattatistica termale e questa volta ci hanno messo la faccia davvero possiamo dire e l'abbiamo accoppiato con cartoline di siti termali con stampe e infine proprio con l'acqua minerale che come ricordava il presidente dell'Accademia all'inizio fanno parte di questa curiosa ma anche molto bella collezione posseduta dall'Accademia dei Fisiocritici e su questa collezione specifica poi sentiremo il conservatore del Museo di Storia Naturale dell'Accademia Andrea Benocci che ci parlerà proprio di questo io quello che volevo dire è spiegare cercare di spiegare qual è il filo rosso che lega un po' questa mostra cioè si direbbe oggi qual è il focus di questa mostra praticamente è mostrare attraverso le testimonianze librarie a stampa e manoscritte quella che è stata l'evoluzione nell'atteggiamento verso le acque termali in cui si passa da un interesse prettamente medico che stavo detto anche prima a un interesse che è un incrocio tra l'aspetto scientifico chimico fisico e quello medico quello che si vede in questi volumi che comprendono un periodo tra il cinquecento e l'ottocento è proprio questo e far vedere come fin dal cinquecento bisogna cercare per capire le acque minerali le singole acque minerali bisogna cercare quella che loro chiamavano la miniera cioè quello che erano i minerali che erano dentro perché erano i minerali che avevano una certa funzione terapeutica quindi quello che vedete giù saranno dei volumi a partire dal Savonarola che è un avvo di Girolamo Savonarola che era un famoso medico per passare poi a Andrea Bacci con De Termis una delle opere più importanti del termalismo italiano del cinquecento per far vedere proprio che si cercava questo tipo di elemento capire che se c'era il ferro in una certa quantità questo ferro poteva fare bene a certe forme morbose se c'era l'antimonio se c'era l'allume ecco era questo lo sforzo uno sforzo che diventa diciamo grosso modo comprensibile quando verso la fine del seicento quando Robert Boyle scopre e codifica come si fa a esaminare un'acqua minerale e a capirne gli effetti dietro Boyle che scrive sulle acque minerali negli anni ottanta del seicento verranno poi tutta una serie di naturalisti chimici fisici che approfondiranno questo tema non lo so penso per la Francia a la Voixier la L'Uvelchimie che esaminerà specificamente le acque minerali penso a uno svedese un mineralogista famosissimo all'epoca che era Torben Bergman che poi sarà pubblicato negli anni ottanta del settecento anche in Italia a Napoli e che darà un decalogo vero e proprio per esaminare le acque minerali quello che vedremo in mostra sarà proprio come si sviluppa questo discorso questo approccio diverso alle acque minerali un accenno va fatto a manoscritti è già stato fatto giù sono stati selezionati dall'archivio storico dell'accademia quattro manoscritti di cui tre inediti e uno già edito però mi prendo la responsabilità di aver fatto questa scelta perché il primo del 1785 di Antonio Mattei che parla di Bagno Vignoni fa l'analisi delle acque di Bagno Vignoni è interessante perché per l'autore perché Antonio Mattei è stato il grande accusatore del suo maestro Paolo Mascagni quando questo fu processato e arrestato e detenuto durante i moti di fine Settecento perché come sapete era favorevole alla rivoluzione e quindi favoriva i francesi e secondo appunto Mattei inculcava negli studenti anche certe idee che erano sicuramente sovversive e ho scelto questo testo perché il Mattei al di là di questo aspetto un po' sovversivo anch'esso per certi pensi reazionario diciamo pure è riuscito a fare qualcosa di estremamente professionale lui faceva il disettore per Paolo Mascagni per cui sapeva legare l'analisi chimica fisica a quello che era poi il discorso della cura del corpo il secondo manoscritto che abbiamo di Giovanni Pompeo Grifoni risale ai primi anni dell'Ottocento ed è tratta dell'Acqua Borra l'Acqua Borra ha una lunga bibliografia che parte dal Seicento Leandro Terucci eccetera eccetera però il pezzo del Grifoni è interessante perché dà il via a un altro atteggiamento sì il Grifoni è un chimico farmacista fa l'analisi dell'acqua eccetera ma soprattutto insiste su un punto è che quella è l'acqua più vicina a Siena e quindi può essere sfruttata per i senesi e quindi cosa più importante chiama raccolta quelli che erano gli imprenditori agricoli della zona perché mettessero su un sito termale efficiente in grado di ospitare le persone che andavano lì a godere dei benefici di quest'acqua salutare quindi siamo a un passo diciamo un po' decisivo per lo sfruttamento di certe acque poi l'acqua borra ha avuto il destino che purtroppo sapete ci sono state lunghe discussioni sul suo uso poi c'è stato l'incidente dove morì quel ragazzo insomma lasciamo perdere sarebbe lungo il discorso è rimasto ora appena appena sistemato c'è un ristorante di sopra ma insomma non viene usufruito come potrebbe come potrebbe essere se ci fosse una struttura come avevano fatto i romani che lì avevano scavato una vasca di travertino e che quindi permettevano i bagni gli ultimi due manoscritti sempre tratto dall'archivio storico ma vi invito a pensare che non sono gli unici manoscritti sulle acque minerali che sono nell'archivio storico dell'accademia ce ne sono diversi questa la mia è stata solo una selezione da mettere in mostra quindi ne ho scelti pochi e un po' significativi gli ultimi due dicevo sono una cosa abbastanza singolare nel 1834 fuori porta romana un piccolo imprenditore forse un contadino un po' più ricco decide di fare di investire in una piscina questa piscina doveva servire per un allevamento di carpe e che queste carpe sarebbero andate poi a rifornire quello che era il mercato del pesce a Siena costruisce questa enorme vasca ci mette l'acqua ci mette i pesci e i pesci muoiono tutti si pensa all'inizio al fatto che sia stata costruita molto in fretta e che quindi alcuni materiali tipo il cemento usato eccetera avessero qualche qualche problema qualche difetto e che quindi rendessero l'acqua velenosa siamo nel 1834 viene chiamato alla fine il grifoni che aveva studiato anche l'acqua borra il chimico farmacista che era poi tra parentesi un grande esperto di cure dentarie faceva anche il dentista e ha pubblicato diversi libri sulla manutenzione dei denti e lui esamina quest'acqua e già dall'odore scopre che questa è un'acqua minerale che viene dal sottosuolo di Siena per cui fa tutta l'analisi dell'acqua che in questa relazione manoscritta è riportata e chiama un suo collega fisiocritico anche lui a fare una relazione invece su quelli che possono essere i possibili effetti terapeutici di quest'acqua Leonardo Antolini che era un altro docente dell'Università di Siena accademico fisiocritico l'Antolini fa una lunga sperimentazione su varie malattie e scopre alla fine che quest'acqua sulfurea ha delle grosse proprietà su alcune malattie dell'epidermide per cui la consiglia per in quel momento c'era la rogna c'erano altre forme anche sanguinolente di malattie epidermiche eccetera e lui sperimenta questo tipo di cose l'interessante è che queste due relazioni nell'agosto 1834 vengono presentate in questa sala e vengono dibattute proprio all'interno dei fisiocritici perché questo perché in realtà come vedremo poi in mostra l'Accademia è stata un laboratorio attrezzatissimo su questo discorso delle acque minerali e lo è stato fin dal settecento quando ha iniziato a parlare e studiare le acque minerali Giuseppe Bardassarri che poi è docente all'università di Siena presidente dell'accademia per tanti anni eccetera eccetera il quale ha capito e soprattutto ha raccolto quelli che erano i suggerimenti che venivano dall'estero e che vedevano nella nuova chimica la possibilità di studiare queste acque trovando quelle che erano le sostanze la famosa miniera del Cinquecento da lì teniamo conto che grandissima parte dei personaggi dei chimico fisici che studiano le acque minerali di Azzanese fanno parte dell'accademia dei fisiocritici teniamo conto di Giuseppe Giuli di Giacomo Barzellotti che sarà poi l'inventore della medicina legale quindi legato all'igienismo a queste cose qui e poi oltre a Giuli Giovanni Campani tutta una serie di personaggi che vivono e lavorano e dibattono qui dentro e questo è importante che questo diventa un laboratorio che già nel Settecento attraverso Baldassarri aveva lavorato in maniera aggiornata e informale su queste sostanze disciolte nelle acque minerali tant'è e giù è in mostra il secondo volume degli atti dei fisiocritici il primo del 1761 quello dedicato famoso dedicato all'inoculazione del vaiolo il secondo volume del 1763 è in gran parte dedicato alle acque minerali con una serie di contributi su alcune sorgenti tra cui appunto ci sarà anche l'acqua borra eccetera questa è la ragione per cui ci sono quei manoscritti lì la selezione è stata fatta su questo poi ripeto nell'archivio storico dei fisiocritici c'è diversa roba che andrebbe esaminata trascritta e pubblicata io mi sono limitato a selezionare queste a trascrivere queste ultime opere questi ultimi manoscritti nel catalogo della della mostra e ora chiamerei Andrea Benocci che ci dia qualche lume su questa collezione curiosa molto importante allora io vi ruberò pochissimi minuti in realtà appunto sono qui per parlare di questa collezione che per alcuni aspetti è considerata un po' unica in effetti è una cosa abbastanza inusuale in un museo vedere una collezione di acque imbottigliate e per quanto riguarda appunto la nascita di questa raccolta faccio una piccolissima premessa come è già stato detto l'interesse dei fisiocritici per le acque sia agli aspetti diciamo legati alla loro chimica alla fisica ma anche proprio alle proprietà mediche e curative è antico i fisiocritici hanno pubblicato fin dalla nascita dell'Accademia trattati e pubblicazioni appunto che riguardavano questi aspetti a partire dalla fine del 600 già Teofilo Grifoni che pubblica un trattato sulle acque di Bagno Vignoni successivamente nel 700 appunto possiamo citare Giuseppe Baldassarri per Montalceto e l'Acqua Borra e poi nell'800 c'è veramente una profusione di lavori dei fisiocritici che riguardano proprio le acque del territorio in generale questo si colloca un po' all'interno di quello che è un aspetto principale un light motive potremmo definire del lavoro dei fisiocritici degli studi dei fisiocritici che hanno da sempre studiato il territorio senese con molta attenzione con appunto una ricerca mirata non soltanto alla scienza pura ma anche alle proprietà applicative poi che si dovevano ricavare dalle risorse del territorio quindi non soltanto le acque ma i fisiocritici nel corso della loro storia hanno indagato le produzioni naturali i fossili i minerali gli usi che si potevano fare delle piante Biagio Bartalini pubblicò tantissimi lavori negli atti che riguardavano proprio l'uso delle piante nell'industria nella manifattura spesso per trovare dei prodotti che potessero in qualche modo sostituire tutte quelle sostanze quei prodotti che venivano dall'estero e che magari in tempi di guerra tendevano a non arrivare quindi l'interesse appunto di questa accademia nei confronti del territorio e di come i prodotti del territorio potessero essere utilizzati in qualsiasi modo è appunto appurato e assodato e testimoniato da tantissime pubblicazioni venendo allo specifico abbiamo detto appunto l'interesse sulle acque è testimoniato proprio da questa profusione di manoscritti e pubblicazioni e nel corso dell'Ottocento c'è stato proprio un fiorire in qualche modo questo interesse si è concretizzato veramente in tante pubblicazioni e un socio in particolare Giovanni Campani si è interessato molto a questo argomento e nel 1862 quando l'Accademia ha ospitato il decimo congresso degli scienziati italiani Giovanni Campani decise in qualche modo di sintetizzare i risultati di tutti questi trattati di tutte queste pubblicazioni in un lavoro il lavoro era stato pensato come strena diciamo da regalare da donare come omaggio per i partecipanti al decimo congresso degli scienziati italiani si chiamava Siena e il suo territorio era diviso in varie sezioni c'era una sezione dedicata alla geologia e all'interno di questa sezione sulla geologia un capitolo sulle acque minerali ecco Giovanni Campani appunto in qualche modo sintetizzò i risultati di tutti questi studi sulle acque all'interno di questo capitolo e probabilmente appunto in questa occasione nacque l'idea di creare una raccolta di acque durante una donanza si ha proprio testimonianza del fatto che i soci votarono a favore di creare proprio una raccolta di acque minerali e termali della provincia di Siena da esporre all'interno del museo quindi come si adoperarono diciamo l'allora direttore Attilio Tassi su consiglio e con l'aiuto di Giovanni Campani contattò i direttori di vari stabilimenti che imbottigliavano acque a scopo curativo e medico ma anche direttori di stabilimenti termali e praticamente chiesero di inviare campioni delle proprie acque che quindi furono appunto furono raccolte e imbottigliate ed esposte a partire dal 1862 c'è un catalogo manoscritto del 1863 che parla di 44 bottiglie rappresentanti 27 sorgenti diversi della provincia e si va praticamente si spazia un po' per tutto il territorio dalla Val d'Elsa alla Val d'Arbia Val d'Orcia Val di Chiana Val di Paglia e così via e queste bottiglie appunto originariamente erano 44 però già nel catalogo delle collezioni geologiche del 1935 redatto da il Gori praticamente ne risultano molte meno ne risultano 26 rappresentanti di 16 sorgenti non si sa non è dato sapere insomma come mai alcune siano andate perdute nel corso del tempo queste bottiglie furono praticamente tenute esposte non si sa fino a quando però durante il periodo in cui l'università cioè l'accademia era diventata uno stabilimento universitario e quindi molti degli spazi una volta espositivi erano stati trasformati in aule e laboratori dell'università molti reperti nonché addirittura i libri della biblioteca erano stati tolti da questi spazi e accatastati diciamo provvisoriamente in depositi a volte anche di fortuna nel corso degli anni 90 questi depositi furono esplorati e durante queste indagini appunto furono ritrovate queste bottiglie contenenti le acque minerali e termali della provincia di Siena e fu deciso di dare di valorizzare questa raccolta per cui negli anni successivi si decise di proprio creare un allestimento espositivo apposito fu utilizzato un armadio d'epoca e in qualche modo fu allestita questa esposizione che fu inaugurata nel 2005 ci fu un'apposita cerimonia una giornata dedicata a questo evento e che cosa ha di particolare questa collezione allora intanto queste bottiglie sono interessanti per il fatto che molte di esse hanno dei depositi sul fondo che tendono ad essere di colori diversi a seconda appunto delle sostanze che sono in soluzione all'interno dell'acqua quindi a seconda della composizione chimica in qualche modo delle sostanze in sospensione e sono anche sono bottiglie molto belle da vedere perché hanno delle etichette dove sono elencate appunto le sorgenti di provenienza il nome del donatore generalmente con una grafia molto bella che sembra quasi stampata e sono elencate spesso le proprietà chimico-fisiche e addirittura organolettiche di queste acque il tutto diciamo queste bottiglie che sono appunto in questa vetreria ottocentesca molto pregiata sono tappate con un coperchio di vetro smerigliato che è chiuso da una pergamena chiusa a sua volta da un nastrino tricolore quindi insomma c'è anche un certo occhio di riguardo per l'estetica e queste bottiglie sono normalmente esposte a partire dal 2005 nella sala Bartalini in un apposito armadietto appunto con il loro cartellino la loro etichetta della collezione che è quella originale dell'Ottocento che ci fa capire appunto che la raccolta era stata era nata proprio per essere vista per essere esposta e questo armadio appunto è nella sala Bartalini qui accanto adesso parte di queste bottiglie sono state prelevate per essere inserite all'interno delle vetrine accanto ai libri quindi scendendo appunto vedremo che molte di queste pubblicazioni che trattano di alcuni bagni o di alcuni sorgenti hanno accanto la relativa bottiglia con l'acqua proveniente da quella zona io non mi trattengo oltre grazie grazie Andrea e dopo aver parlato della mostra bisogna parlare del catalogo della mostra stessa e perché appunto un grande sforzo è stato profuso anche per fare un catalogo delle opere che sono che sono esposte e devo dire che qui voglio ringraziare Marta Luciano Giovannoli che è la soprintendente all'archivio storico della biblioteca dell'accademia che si è prestata a fare le schede di tutti i libri un altro mio ringraziamento personale va alla nostra coordinatrice che è stata Chiara Bratto che devo dire con la sua agribia e la sua attenzione massima è riuscita non solo a pubblicizzare l'evento in maniera invidiabile ma anche a tenere conto di tutte e a segnalarci tutti gli errori in cui è Marta spesso siamo in corsi facendoci le correcce Marta è acceso è acceso è acceso questo sì buonasera sarò molto breve perché credo che a questo punto il desiderio di tutti noi sarà quello di scendere giù a vedere a vedere la mostra come già stato detto questa iniziativa è stata presa proprio come data riguarda la giornata mondiale dell'acqua e più vicino grazie questo libro è stata l'occasione per unire insieme le tre grandi parti dell'accademia vale a dire il museo la biblioteca e l'archivio storico il libro è anche arricchito da delle pregevoli articoli da dei pregevoli contributi molto importanti a cominciare appunto dall'introduzione della professoressa Guarducci e poi desidero sottolineare il contributo del nostro Mario De Gregorio che ha fatto un commento biobibliografico agli autori dei libri esposti di cui io ho avuto come sovrintendente alla biblioteca il privilegio di fare di fare le schede quindi il commento invece agli autori che sono autori come si diceva molto importanti che hanno lasciato una grossa traccia nella scienza di questo di cui stiamo trattando stasera è stato fatto appunto da Benocci scusa da Benocci da De Gregorio i libri provengono dalla ricca collezione della biblioteca la biblioteca ha un patrimonio enorme in gran parte nascosto purtroppo non ben conosciuto noi cerchiamo negli ultimi anni in qualche maniera di renderlo al pubblico di farlo notare di attirare l'attenzione del pubblico su queste cose che possediamo già abbiamo fatto qualche iniziativa contiamo nel futuro di poterne fare anche qualcun'altra però i libri che sono in mostra come i libri che sono nel catalogo le cui schede sono nel catalogo non provengono solamente dall'appunto come già è stato detto dalla biblioteca dell'Accademia di questo desidero ringraziare particolarmente la società bibliografica toscana nella persona del suo presidente appunto Paolo Tiezzi Maestri che ha parlato prima perché lui ci ha prestato ci ha dato tantissimi libri perché li esponessimo insieme ai nostri non si è fatto una divisione di origine non si è fatto due collezioni diverse abbiamo fatto un'unica collezione divisa in ordine cronologico sia nella mostra sia nel libro perché come si diceva prima l'unione la collaborazione tra la società bibliografica toscana e l'Accademia ormai è decennale quindi ringrazio moltissimo Tiezzi Maestri anche perché non è che ci ha portato ci ha portato alcuni opuscolini dell'ottocento che hanno un grosso valore magari scientifico ma meno valore biblioteconomico ma ci ha portato anche due cinquecentine ora insomma io penso che le cinquecentine che lui ha preso e ci ha portato e ce le ha date voglio dire dobbiamo ringraziarlo di questo di questo contributo importantissimo nel catalogo come dicevo non c'è una una divisione fra le due collezioni solamente la sigla BAFFE biblioteca Accademia dei Fisocritici e BVC biblioteca appunto Villa Classica come troverete del resto anche giù nella mostra noi e siccome ci sono tantissimi libri che possiede la biblioteca di questo argomento come diceva appunto anche Mario abbiamo deciso di fare dei dipori dei limiti quindi libri che parlano di questo argomento entro il secolo diciannovesimo e libri che parlano di questo argomento relative alle acque minerali e termali della provincia di Siena purtroppo tante cose sono restate fuori ma non era materialmente possibile fare in un'altra maniera io non mi soffermo sopra il valore scientifico di queste opere vi invito a guardare nella mostra e chi avrà l'occasione di prendere anche il libro di osservare le illustrazioni questo libro è arricchito da molte illustrazioni che sono molto interessanti perché allora intanto ci sono cartoline e tavole che riproducono le terme i bagni i famosi bagni di una volta ma una volta non 10, 20, 30 anni fa un secolo fa due secoli fa addirittura della fine del Settecento quindi pensate illustrazioni estremamente interessanti perché tra le altre cose sono insomma Bagni si stava dicendo Rapolano la Querciolaia Chianciano San Casciano Bagni che si conosce bene tutti anche per gli ultimi mesi è venuto molto alla ribalta cioè magari le abbiamo frequentate magari ci siamo stati ecco soffermiamoci a vedere la differenza tra le immagini riprodotte nel libro e anche quelle che sono giù nella mostra e magari il nostro ricordo o la nostra esperienza personale non solo ma la certosina pazienza di Mario ha portato alla scoperta di vari ritratti ma i ritratti che cosa sono i ritratti di questi autori perché così noi li possiamo conoscere questi autori le possiamo quasi vedere come una fotografia perché c'è anche una fotografia ci sono tanti ritratti che sono stampati nel libro e che sono giù in mostra in dimensioni anche notevoli quindi vedete l'importanza di questa mostra e anche del catalogo relativo che ci mette in contatto con questi autori in contatto proprio di conoscenza fisica diciamo e poi va bene chi ha un po' di esperienza del libro antico sa benissimo il valore dei frontespizi ci sono dei bellissimi frontespizi che sono esposti ed anche sono molti anche sono riprodotti nel catalogo sono frontespizi di grande valore ripeto ci sono le 500 della società bibliografica toscana ma c'è anche la nostra il bacio di cui si parlava prima ci sono delle 600 cioè sono frontespizi molto belli c'è un frontespizio che riguarda dei primi dell'ottocento le terme di Chianciano molto ornato è veramente è un'opera d'arte veramente mi soffermo un attimo sui manoscritti poi mi traccio questi manoscritti che sono stati messi in evidenza da cui il valore scientifico è stato messo in evidenza io voglio sottolineare un attimo anche di questi la parte curiosa la parte che ci può interessare cioè un manoscritto riguarda l'acqua borra noi quelli più vecchi io sono fra di loro quando eravamo giovani all'acqua borra magari ci siamo stati ci sono rispondate anche l'altro giorno per curiosità e come dice lui si è abbastanza però l'acqua borra è a due parti da Siena guarda e qui c'erano ci sono tutti questi scritti sull'acqua borra che ci possono anche interessare ci interessano dal punto di vista scientifico però anche ci attirano dal punto di vista proprio personale è vicino a Siena l'acqua borra certo peccato che ci sono una sorgente del mare molto più vicina a Siena perché quella di cui parlano gli altri due manoscritti in mostra e di cui appunto ha sottolineato il valore importante scientifico del 1835 se non mi ricordo male del 34 del Gregorio sono fuori Porta Romana allora non a due passi ma qualcosa anche di più vicino sono fra Porta Romana e Porta Tufi cioè questo famoso podere da cui è scaturita all'improvviso quest'acqua che ha ucciso le carpe che dovevano essere invece allevate e sono fuori di Porta Romana quindi a due passi da qui ci si arriva a piedi ecco vedete quanto Siena è valida è importante per tutti i tesori artistici che ha per la storia per carità io non voglio srattelermi su questo però anche su queste cose dici ma come l'acqua termale a Siena sì l'acqua termale vicino a Siena alle porte di Siena sottolineo per ultimo una cosa anch'essa già detta cioè ci sono esposti nel catalogo ci sono le schede che appunto dicevo ho avuto il primiregio di fare relative a alcuni articoli pubblicati negli atti questo che sottolinea come già stato detto e come ripeto sottolinea il valore dell'accademia e il valore dell'accademia come studioso come gli studiosi dell'accademia ma non solo ma anche gli atti quanto siano curati siano stati curati alla pubblicazione degli atti nel corso degli anni un'importanza scientifica e culturale degli atti estremamente valida che pubblicare queste cose che erano cose per allora anche molto contemporanee ecco io ho finito perché sono le sette penso che si possa grazie grazie a Marta e direi che a questo punto ringraziandovi tutti possiamo scendere con calma a vedere la mostra chi volesse voglio avvertire che purtroppo il catalogo ce n'è pochissime copie però all'ingresso può essere prenotato se lasciate il nome e un recapito vi verrà detto quando sarà disponibile grazie a tutti